Ben ritrovati con il momento dell'informazione su Arezzo TV, un secondo braccialetto anti-stalking applicato nell'aretino. Chiara Sadotti nel prossimo servizio assieme alla questura di Arezzo ci spiega il meccanismo. Senza il braccialetto elettronico le forze di polizia devono aspettare che la parte offesa faccia un'altra volta una segnalazione che la persona che l'ha stalkerata piuttosto che ha usato violenza nei suoi confronti si è avvicinata. In questa maniera invece le forze di polizia intervengono direttamente. Il braccialetto elettronico anti-stalking serve così a proteggere le vittime di violenza di genere. Suona infatti nel caso in cui il molestatore si avvicini oltre il limite stabilito. Ad Arezzo solamente nell'ultima settimana due i dispositivi che sono stati assegnati applicato ad un 37enne che aveva picchiato l'ex compagna sino a mandarle in ospedale in prognosi riservata. Indosserà un braccialetto elettronico poi anche un 80enne che avrebbe molestato un ragazzo di appena 13 anni. A seguito della legge del 2019 sul codice istitutivo e del codice rosso, proprio per dare una tutela reale, efficace ed effettiva nei confronti delle persone offese. Chi indossa questo apparecchio è costantemente monitorato perché dotato di segnale GPS. È composto da due dispositivi, uno al braccio e alla caviglia dello stalker, l'altro invece in possesso della vittima. Occorre il consenso di entrambe le parti a utilizzare questo dispositivo. Dopodiché sono le forze di polizia che ricevono immediatamente il segnale, l'alert, nel momento in cui le due persone sono più vicine di ad esempio 500 metri. La richiesta di questa misura restrittiva parte dal PM. Il GIP poi potrà decidere se applicarlo o meno. Anche la persona vittima del reato viene tracciata, quindi questo gli dà un senso di sicurezza in più. Ma non è solo un senso, poi effettivamente c'è questa sicurezza in più. Un ordigno bellico, una bomba a mano risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato nei pressi dei binari della ferrovia lungo la tratta Arezzo-Firenze, in località Pieve a Maiano, nel comune di Civitella in Valdichiana. È stato il sindaco Andrea Tavarnesi ad avvisare la prefettura. Sul posto si sono portate squadre specializzate per la rimozione. Trenitalia ha deciso anche di apportare delle variazioni a due treni regionali che sarebbero transitati nel luogo, proprio nel momento appunto della rimozione dell'ordigno bellico. Torniamo adesso a parlare della protesta degli agricoltori che sta infiammando davvero tutta Europa, tante anche le postazioni di protesta in Italia, quella più vicina al nostro territorio, è indubbiamente all'uscita a uno di Bettolle, oggi un nuovo blocco. Vediamo. Gli agricoltori sono la spina dorsale della sicurezza alimentare e dell'Unione Europea, il centro delle nostre zone rurali. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, commentando le deroghe proposte per i terreni a riposo, continueremo, ha detto, a dialogare con i nostri agricoltori. Specialmente nei territori collinari, nell'interno dove ci sono problemi comunque, sia per l'allevamento che per i cereali, perché la fauna selvatica sta facendo degli ingenti danni, se la gente chiude, smette, dopo il territorio sarà completamente abbandonato e ci troveremo ancora di più queste catastrofi da sopportare. Intanto in Valdichiana, uscita uno di Bettolle, siamo al secondo giorno di protesta, andranno avanti fino a sabato, anche oggi un blocco al casello, in attesa di incontrare il Ministro Francesco Lollobrigida. Per esempio c'è stato, anni indietro, l'aumento dei concimi che ancora non sono ritornati ai prezzi di prima. Ma il prodotto, il nostro prodotto, è ritornato al pezzo più basso di prima. Però un chilo di pane sfiora ai 3 euro. No, un chilo di pane ne sfiora anche di più, anche di più, dipende che pane vuole. Quello ai 3 euro e quello da meno. Quindi il nostro grano 23, 22, 20 centesimi. E col diretti C e Confagricoltura, come sappiamo, non aderiscono alla manifestazione, ma in queste ore arriva la nota proprio di Confagricoltura. Arezzo, per bocca del suo presidente, Carlo Bartolini Baldelli, che si è detto pronto a portare le istanze degli agricoltori nelle sedi competenti. In agenda il prossimo 12 febbraio, già un incontro con i parlamentari del territorio. E a proposito di agricoltura, una buona notizia che arriva in questo caso. E a proposito di agricoltura e cambiamenti climatici, in questi ultimi anni indubbiamente il settore ha dovuto far conto anche con i problemi della siccità. Di questo non si dovranno più preoccupare le aziende, ma anche le famiglie che risiedono nei territori di Marciano e Monte San Savino, perché lì arriverà appunto l'acqua di Monte D'Oglio. Circa 9,5 km di tubature, un investimento di oltre 2.240.000 euro, 7.300 le persone servite e a queste appunto si aggiungono le aziende. Numeri importanti di questo progetto di nuove acque cofinanziato con fondi PNRR. In arrivo, lo abbiamo già detto, nei giorni scorsi 21 milioni di euro per il nuovo ponte aburiano in provincia di Arezzo, le risorse che la giunta regionale, con una delibera dello scorso lunedì, appunto destinato alla realizzazione della nuova struttura definitiva e alla viabilità alternativa. Non solo questo, adesso per quanto riguarda il territorio aretino, arrivano anche 14 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione del terzo lotto della variante alla strada regionale 71. Lo ha annunciato proprio oggi il Presidente della Regione, Eugenio Gianni. L'intervento è stato inserito nella delibera di giunta regionale con cui si prevede appunto un programma di interventi finanziati proprio dal Fondo di Sviluppo e Coesione. L'accordo, la firma dell'accordo, è prevista per il prossimo febbraio. E adesso torniamo invece a parlare del criterio, cosiddetto criterio nonni, inserito nel nuovo regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia nel Comune di Arezzo che ha fatto tanto discutere. In questi giorni il Vice Sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, sta incontrando le famiglie che sono a favore o contro appunto questo nuovo regolamento. Dal confronto con le famiglie prononni è uscita una richiesta chiara mantenere la scelta di considerare la condizione dei nonni nei nuovi criteri di accesso ai servizi educativi. Così il Vice Sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, torna a parlare del nuovo regolamento per l'accesso ai nidi e alle scuole per l'infanzia comunali che prevede appunto la tanto discussa quota nonni. Nessuno confonde i servizi educativi con la rete affettiva, prosegue, ma i criteri esistono per dare delle priorità. Una famiglia che si prende cura di una persona anziana ha un livello di criticità maggiore di chi non è nella necessità di farlo, a meno che non si ritenga che un nonno molto anziano o disabile debba essere lasciato solo a se stesso. Domani il Vice Sindaco invece incontrerà i portavoce dei genitori che hanno criticato aspramente il nuovo regolamento e contemporaneamente in Piazza della Libertà si terrà un sit-in, mentre la raccolta fondi lanciata dal segretario comunale del PD di Arezzo, Matteo Bracciali, ha raggiunto quasi 600 adesioni. Ovviamente, conclude Lucia, tanti sono disponibili ad ascoltare chi la pensa diversamente, come giusto che sia, anche raccogliendo suggerimenti. Ed intanto a meno di tre giorni dal prossimo Consiglio Comunale, riconvocato d'urgenza per il voto su una variante urbanistica e la presentazione e l'approvazione del regolamento sull'accesso ai servizi per l'infanzia, dopo la mancanza del numero legale, l'inizio dei lavori slitta di 5 ore, non più alle 9 di venerdì 2 febbraio, ma alle 15. A comunicarlo è stato il Presidente del Consiglio Comunale, Luca Stella. La motivazione sarebbe la mancanza nella mattinata di alcuni consiglieri e due eventi in concomitanza. E allora avete sentito appunto dal servizio ancora una volta il Consiglio Comunale di Arezzo rinviato. La Giunta Ghinelli è costretta, dicono i due consiglieri di Scelgo Arezzo, Donati e Sileno, a rinviare numerose pratiche. Tra queste anche la modifica al regolamento dei servizi all'infanzia. Questa crisi strisciante ha come effetto principale quello di rallentare l'azione amministrativa con conseguenze che sono sotto gli occhi dell'intera città. Dovremmo parlare dei nonni perché sono proprio loro gli anziani, insomma le principali vittime delle truffe. Tante ce ne sono state anche nel territorio aretino. E allora per evitarle arriva Non aprite quella porta. Una iniziativa organizzata proprio dalla sezione pensionati di CNA. Ci sarà un incontro venerdì prossimo 2 febbraio al quale parteciperanno tutte le forze dell'ordine. Ognuna per la loro specifica appunto daranno il loro importante contributo per questo focus sulle truffe agli anziani che avvengono insomma in varie modalità. Torniamo a parlare adesso invece di educazione civica. Questa sera torna su Arezzo TV in esclusiva la messa in onda della lezione, lezioni organizzate dall'Associazione Intratevere e Tarno. Sale in cattedra di nuovo l'ex dirigente scolastico Alessandro Artini. Prosegue a mio parere con successo e chiaramente questo fa contento me che non vorrebbe dire niente, ma spero che faccia, diamo qualche insegnamento a chi ci ascolta, cioè ai ragazzi in presenza e anche a coloro che volessero eventualmente seguirlo in TV. Torna in onda su Arezzo TV la lezione di educazione civica. L'ITIS di Arezzo, l'ex dirigente scolastico Alessandro Artini, oggi presidente della biblioteca di Arezzo, ha affrontato il delicato tema della sociologia, della politica. Parlerò di sociologia, dirò alcune cose sui fondamenti del pensiero sociologico, parlerò dell'insegnamento perché un sociologo importante, Max Weber ha scritto alcune cose sul lavoro intellettuale, la cui attualità secondo me è tutt'oggi in dubbia, non è venuta meno. E poi parleremo delle campagne elettorali dal punto di vista sociologico. Cioè si tratta di individuare quelli che sono i fondamenti scientifici, oggettivi di un pensiero comune, di un pensiero che riguarda l'intera società a prescindere dalla posizione politica che le singole persone hanno. Tra i prossimi appuntamenti anche uno dedicato alle donne che nell'aretino hanno ricoperto ruoli importanti. Tutte le donne a retine che hanno raggiunto un primato, dall'antichità alla Bettoni per dire, se c'è la prima maestra, la Fiumicelli, la Vera Butali, tutta una serie di personaggi. Volevo fare qualcosa che fosse più legato al territorio. I ragazzi sono stati attenti, non li ho visti mai distratti. Io mi sarei distratto quando avevo 16, 17, 18 anni e questi no. Quindi è una speranza per il futuro indiscutibile. Ma si possono incrementare un po' queste lezioni di educazione civica? Perché magari vista l'attenzione, come dire, squadra che vince... Non si cambia. Certo, ovviamente le lezioni sono molte, perché più o meno sono un paio al mese. Molte per un'organizzazione, l'associazione Trattiveri Arno, che non è una scuola. Se però la scuola, in senso lato, quindi il dirigente scolastico provinciale, i presidi delle varie scuole, fossero ulteriormente interessate, per noi sarebbe un piacere incrementare il numero delle lezioni. Un interesse enorme da parte degli insegnanti, perché ci chiedono il materiale. A San Giovanni il dottor Rossi ha fatto una lezione, come ha fatto a Redi, sulla carne artificiale, sulla farina di grillo, eccetera. E per cui, devo dire la verità, gli insegnanti mi hanno chiesto le diapositive, le slide. Arriva lo stimolo all'insegnante che poi ci lavorerà. E allora non perdetevi questa lezione, questa sera appunto di Alessandro Artini, e poi la potrete insomma rivedere in replica nella nostra programmazione. A proposito di scuola, una buona notizia. Era il 6 settembre scorso, quando i ladri presero di mira l'Istituto Margheritone, la scuola media di Via Tricca ad Arezzo, lo ricorderete, un maxicolpo da 70 mila euro, 100 tablet che vennero trafugati. Dopo una raccolta fondi, proprio domani, i nuovi dispositivi saranno di nuovo messi a disposizione degli studenti. Ovviamente le nostre telecamere saranno presenti per testimoniare insomma questa bella notizia. Parliamo adesso invece della stazione ad alta velocità, un'opera inutile dispendiosa, 100 milioni di costi, 15 anni di lavoro e 20 ettari di suolo consumato, semaforo rosso di Lega Ambiente, all'ipotesi progettuale di RFI di costruire appunto la stazione ad alta velocità a Creti. Quest'ultima dovrebbe sorgere, dice Lega Ambiente, in piena campagna come una cattedrale nel deserto, un progetto che implicherebbe costi ingenti e un forte impatto ambientale. Lega Ambiente chiede che le risorse siano investite per il trasporto regionale, migliorando infrastrutture e servizi locali per armodernare proprio le stazioni dell'alta velocità di Arezzo e Chiusi. Adesso invece parliamo del parco che non è un dibattito costruttivo sul futuro delle aree interne dell'Appennino che è stato ospitato dalla Fondazione Progetto Valtiberina. L'intenzione di istituire un parco nazionale che interessa diversi territori appunto dal Cate, dal Nerone fino anche all'Alpe della Luna nasce a dire il vero negli anni 70 del secolo scorso. Il comitato di cui io faccio parte, in particolare sono appunto il Presidente, nasce nell'estate del 2017. Le attività sono quindi continuate. L'anno scorso abbiamo svolto diverse attività, anzi a dire il vero a partire dal 2022, quando abbiamo tenuto una piccola giornata di studi nel comune di Pietralunga. abbiamo poi dato vita ad un manifesto di intenti in cui abbiamo riportato le attività che dovremmo seguire per poter poi procedere con l'istituzione di un parco. L'anno scorso, nel 2023, abbiamo continuato, abbiamo incontrato anche delle associazioni di categoria, piccoli imprenditori locali che hanno investito nel territorio e credono che un parco, un ente parco, in particolare un parco nazionale, può essere l'unico vero strumento in grado di migliorare le condizioni di vita delle poche ormai purtroppo persone che risiedono in questi territori. Come Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi volentieri abbiamo portato la nostra esperienza, avendo compiuto quest'anno i 30 anni dalla Fondazione, sui problemi che abbiamo vissuto, la nostra storia dall'istituzione nel 1993 fino a oggi, perché nell'ottica di costruire veramente un sistema fra le aree protette, lo scambio di informazioni e di esperienze è fondamentale. Soprattutto non ripetere gli stessi errori, quelli che qualcuno di noi ha fatto nel passato nella gestione di una complessità così ampia che è quella ambientale e sociale di un'area protetta che nasce, e anche invece di valorizzare le cose giuste che sono state fatte, le intuizioni su come fare conservazione in un modo sinergico all'aspetto economico, e questa è una sfida che se la si sa fare riesce veramente bene. Non abbiamo tanti anni davanti ancora per far finta di nulla su queste tematiche, dobbiamo affrontarle subito, continuiamo quindi questo percorso di discussione per capire tutti assieme come la nostra vallata può essere un modello da portare e anche da esportare in altri territori, un modello di collaborazione e di sinergia per fare le scelte più giuste. Siamo alla pagina dello spettacolo, è un arlecchino contemporaneo, quello che è salito sul palco del Teatro Petrarca, il più celebre personaggio della commedia dell'arte, ha rivissuto nelle mani di Andrea Pennacchi, che tra l'altro questa era la prima tappa toscana dello spettacolo. No, 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 arlecchino, non l'abbiamo ancora visto, non sappiamo neanche com'è fatto. E stasera dobbiamo andare in scena! È un arlecchino contemporaneo, quello portato sul palco del Teatro Petrarca, a far rivivere uno dei più celebri personaggi della commedia dell'arte, Andrea Pennacchi, attore drammaturgo, noto al grande pubblico per il personaggio del Poiana. L'operazione è portata avanti dal regista Marco Beliani, che firma anche il testo di Arlecchino, in scena ad Arezzo in prima toscana. Io qua ho un contratto per fare lo spettacolo, firmato da Pantalone e dal mio agente Gennaro Esposito. Gennaro Esposito? E dal suo soggio Carmine Scognamice. Carmine Scognamice! Sono tutti i rubiteroni! No, sono tutti i nomi delle mie belle ballate bergamasche! Abbiamo seguito le indicazioni di Goldoni, stiamo raccontando il servitore di due padroni. Quello che succede è che succede, raccontiamo questa storia su più livelli, il livello della storia, il livello degli attori di questa compagnia scalcagnata che lo sta mettendo in scena, e il livello più profondo di un tema. E il tema è cosa significa oggi servire, essere servitore, che è un tema abbastanza importante, visto che si sta discutendo di tantissime cose, dal lavoro sfruttato ai corrieri, che vengono pagati attraverso l'algoritmo. C'è tutto un ognomero, direbbe Gadda, di temi che meritano di essere esplorati. Uno spettacolo impreziosito anche dalla musica dal vivo, eseguita da Giorgio Gobbo e Riccardo Nicolino. Ci ha lasciati Pier Ferruccio Romualdi, il ricordo di Coldiretti, storico direttore della Coldiretti di Arezzo, assoluto protagonista fino al 1994 della rappresentanza agricola provinciale, con spirito innovatore. Ferruccio ha accompagnato le aziende agricole verso il futuro, senza mai dimenticare le tradizioni e il legame spirituale proprio di chi si prende cura della terra, coltivandola. Le più sincere condoglianze anche da parte della nostra redazione ai familiari. Siamo allo sport, ottavo successo consecutivo conquistato dai Botoli in serie C, Vittoria Rotonda e Convincente, contro la formazione del Colle Valdelza. I Nero Amaranto partono subito bene con il piede sull'acceleratore fin dai primi scambi. Il primo set infatti si chiude per 25 a 13. Secondo set ancora in controllo degli retini e si chiude per 25 a 14. La formazione colligiana prova a rimettere in piedi la partita nel terzo parziale, complice anche qualche sbavatura dei padroni di casa che poi però insomma riprendono in mano le redini dell'incontro e lo chiudono per 3 set a 0 conquistando l'ultimo parziale per 25 a 18. Ed infine un appuntamento di podismo su e giù per la torre di Gnicche torna appunto ad Arezzo. Una tradizione ormai, l'appuntamento è per domenica 4 febbraio con partenze e arrivo a Villa Severi. I partecipanti percorreranno via dei Cappuccini, punteranno appunto verso la torre di Gnicche e poi ancora San Fabiano, San Polo, Antria e faranno ritorno verso via San Filippo per 13 chilometri complessivi. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo venerdì. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio con la lezione di educazione civica del professor Alessandro Artini, lezione che si è tenuta all'ITIS Galileo Galilei di Arezzo. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per l'ascolto e arrivederci.